una ferrari che omiglia tutte le supercar di monte carlo il principato è letteralmente invaso dalle ferrari oserei dire che è più probabile vedere una ferrari a monaco che una punto in italia dovete sapere che ce n'è una in particolare che non solo è più speciale di tutte le altre ferrari ma omiglia addirittura tutte le supercar che ci sono da queste parti siete pronti a scoprire qual è vediamo un po chi di voi la riconosce grazie